Le grandi città sono importanti, sono il centro dell'innovazione e dello sviluppo economico, però l'Italia ha questa straordinaria bellezza anche grazie ad aree come i Monti Dauni, che sono tra le più belle aree della Puglia, e quindi noi abbiamo destinato a quest'area delle somme mai stanziate prima, parlo della Regione Puglia, sia per il dissesto idrogeologico che per le opere stradali. E mi auguro che al più presto provincia, comuni e regione insieme riescano a investire questi soldi, ammesso che il patto per il Sud abbia la copertura, perché abbiamo cominciato a chiedere i primi soldi di questo benedetto patto per il Sud e allo Stato soldi non ce ne hanno ancora assegnati. Vedremo il 5 dicembre, può darsi che si scappirà se i soldi ci sono veramente, o se questi patti per il Sud invece sono stati semplicemente una piccola parentesi. Mi auguro davvero che si possa cominciare a spendere il danaro. La Regione Puglia è la Regione del Sud più efficiente e veloce nella spesa del danaro pubblico, anche con l'aiuto dei sindaci, che sicuramente sapranno utilizzare i fondi che abbiamo messo a disposizione per il dissesto idrogeologico e anche per le strade. Mi auguro anche di poter mettere a loro disposizione i soldi del fondo di rotazione per i progetti, perché uno dei problemi più grossi che hanno i sindaci è che non hanno i soldi per fare i progetti. Nel patto per la Puglia ci sono anche i soldi per fare i progetti.